cari amiche e cari amici siamo nel cuore dell'estate ma non possiamo dimenticare il tempo dello spirito ecco questo è uno spazio per approfondire settimanalmente l'incontro con Gesù e lo facciamo attraverso il Vangelo di Matteo ascoltiamolo insieme dopo che la folla ebbe mangiato subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla congedata la folla salì sul monte in disparte a pregare venuta la sera egli se ne stava lassù da solo la barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde il vento infatti era contrario sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare vedendolo camminare sul mare i discepoli furono sconvolti e dissero è un fantasma e gridarono dalla paura ma subito Gesù parlò loro dicendo coraggio sono io non abbiate paura Pietro allora gli rispose signore se sei tu comandami di venire verso di te sulle acque ed egli disse vieni Pietro sceso dalla barca si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù ma vedendo che il vento era forte si impaurì e cominciando ad affondare gridò signore salvami e subito Gesù tese la mano lo afferrò e gli disse uomo di poca fede perché hai dubitato appena salite sulla barca il vento cessò quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo davvero tu sei il figlio di dio forse questo episodio è realmente accaduto e dice forse perché non sappiamo fino a che punto qui l'evangelista matteo voleva riportare fedelmente il fatto e quindi volesse trasmettere anche a noi un messaggio ma una cosa è certa la barca distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde questa imbarcazione viene travolta dalle onde chi ha visto in terra santa esposta al museo una barca di quell'epoca sa quali fossero le dimensioni e comunque quando il mare di galilea era agitato faceva paura a gente avezza al sacrificio e al vento come pietro giacomo e giovanni e per cui la paura subentra perché sono soli ma dopo il grande miracolo della moltiplicazione dei pani avete notato gesù rimane a terra da solo mentre i dodici cominciano una difficile traversata sul mare di galilea e io direi anche una difficile difficile traversata sul mare della storia dove la chiesa troverà sempre degli ostacoli e delle difficoltà le tempeste ci saranno sempre e allora la pace promessa da gesù non è da pensare come una calma piatta di una vita senza imprevisti assolutamente no sembra dire il signore non riuscirete a dominare le contrarietà le persecuzioni le avversità se volete fare soltanto con le vostre forze cristo deve essere sulla barca con voi più volte nella storia ma anche nell'arte la chiesa è stata rappresentata come una barca agitata dalle onde o addirittura rovesciata bassi pensare alla basilica sotterranea di lourdes la basilica di san pio decimo rappresentata proprio come una barca rovesciata ebbene questa barca però ha resistito alle intemperie per duemila anni sono passati i grandi regni sono passati le grandi dominazioni i potenti e invece questa barca è rimasta a galla ecco quindi che gesù incoraggia i suoi lo fa come ha fatto tante altre volte e dice a ciascuno lo dice a loro ma lo dice a ciascuno di noi coraggio sono io non abbiate paura forse gesù è con noi sulla barca ma non ce ne siamo accorti forse abbiamo paura dell'imprevisto abbiamo paura di aprirci al futuro cari amici questo ci insegna oggi e ce lo insegna anche papa francesco la famiglia è proprio il luogo in cui vivendo insieme nella quotidianità si sperimentano i propri limiti i limiti degli altri piccoli e grandi ma è soprattutto grazie a questa fragilità riconosciuta che il signore può plasmarci e farci da timidi pescatori in autentici testimoni del suo vangelo buona domenica e buone vacanze giochi in autentici giochi in autentici giochi in autentici » lo